E salve a tutti amici, sono sempre Igold e benvenuti in questo nuovo episodio di Project Zomboid Gente, dunque, sto ancora cercando un attimo di capire dove sono rimasto Ho bisogno di rifare un attimo il punto della situazione È il 20 maggio, quindi il tempo sta passando E ci stiamo avvicinando quasi all'anno praticamente Cosa dobbiamo fare? Allora, se non sbaglio, nello scorso episodio ci siamo Dopo aver provato la barca e tante altre cose Ci siamo avventurati verso Louisville Che è questa città enorme Ora, pensando realisticamente di cosa avrei bisogno Mi viene in mente munizioni E basta, perché cibo ne abbiamo Sì, magari potrei aumentare un po' le scorte di cibo in scatola per questa base qua a West Point E ci starebbe, assolutamente Posso modificare o riparare l'ANV perché è il nostro veicolo principale Quindi alcuni obiettivi li ho E vi direi che in realtà l'esplorazione della parte centrale di Louisville l'abbiamo fatta Ci rimarrebbero questi due edifici Che abbiamo appunto Lasciato indietro E tutta la parte residenziale Che però è un altro paio di maniche Sto anche guardando un attimo cos'è che ho come Come armi e relativo munizionamento Perché a me piacerebbe utilizzare Questo qua, la K5 Però spara il 5.56 E appunto 5.56 ne ne abbiamo tantissimi Facciamo un attimo un giro per vedere No, 5.56 non ne abbiamo proprio Quindi Sì, beh, a parte che è normale Perché il 5.56 calibro militare non lo si trova in giro Però invece 9mm ce le abbiamo E scatola di cartucce Scatola di cartucce per fucile Invece ce l'abbiamo Quindi volendo potremmo utilizzare l'USAS 12 Potremmo tenerci L'USAS 12 Eh, però L'MP5 per forza Perché pesa poco Pesa davvero poco E l'USAS 12 potremmo metterlo Potremmo mettere alla swing L'USAS 12 E l'MP5 tenerlo come secondaria Però l'MP5 non mi ci va Nella... Eh, esatto E quindi in realtà Converrebbe portarsi solo 9mm E utilizzare Glock E... MP5 Va bene Vada così Insomma, quindi Mi prendo Qualche minuto Per fare il punto della situazione Capire di cosa ho bisogno E poi vi dico Cosa facciamo in questo episodio Anche se Avevo già accennato Che probabilmente Partiremo per la pulizia Di questo retilineo Che appunto sarà La nostra entrata Verso l'UIVIL Non so se partiremo subito Oppure lo faremo Nei prossimi episodi E in questo ci concentriamo Ancora un po' Su West Point Perché però Dobbiamo andare a Louisville Perché Louisville È una città Enorme A tutto quello Di cui possiamo Aver bisogno Davvero Cioè se trovo Una farmacia È tre volte Una farmacia Di una città piccola Se... Se trovo delle munizioni Sono molte Molte di più Quindi Andremo lì Con priorità di Per la ricerca di munizioni Principalmente E parti di ricambio Per le macchine Perché sono quelle due cose Che Probabilmente Non si trovano Con altrettanta facilità In giro Noi qua avevamo ancora Queste cose E va bene In realtà Zombie Non dovrebbero essercene Giustamente Però Se vado a vedere Lo stato di riparazione Dell'UIVIL Mi rendo conto Che in realtà È messo male Guardate Soprattutto Le Le finestre Cioè noi Non abbiamo proprio Le finestre Vabbè togliete qua Il riscaldatore E gli pneumatici Perché Questi qua Vanno trovati Cioè noi A parte le armature Non abbiamo Le finestre Che È un attimo Pericoloso Perché Come potete immaginare Se non ci sono le finestre Io mi posso fermare Il motore Il motore è al 75% Ma quello Ci sta anche Tutto il resto Ben o male C'è Il parabrezza Parabrezza È un'altra Di quelle cose Che vorrei riparare Quindi facciamo così Sicuramente lavoreremo All'anvi Ma anche se vi dirò Il resto Mi sembra messo bene Parte appunto Di pneumatici E No Sono i pneumatici Sì il serbatoio Di carburante È al 60% Ma va bene E il resto In realtà Cioè le porte Anche se sono un po' bassine Vanno bene Parabrezza E finestre Finestra laterale Per M998 Va bene Vi dicevo Faccio un attimo Il punto della situazione E ci vediamo Pra poco Ok perfetto Allora Vi faccio un attimo Il recap Perché mi sono reso conto Che è passato Così tanto tempo Che Nemmeno mi ricordavo Cosa avevo fatto io La scorsa volta Dunque Adesso ho appena finito Di cucinare Qualcosa Perché Greg Oltre ad essere Molto sotto peso Aveva finito tutto il cibo Cioè non avevamo più Cibo pronto Quindi Mi sono messo a cucinare un po' E nello scorso episodio O meglio Alla fine dello scorso episodio Ho iniziato a riportare Un po' di roba Che avevamo preso Nelle nostre spedizioni Quindi qua abbiamo il cabinato Manca ancora il tavolo da biliardo Che vi ricordo Metteremo lì Poi ho installato Le lavatrici E l'asciugatrice Ecco qua Questa è una lavatrice Questa qua è l'asciugatrice Questo qua è il Il cesto per il bucato Ma una cosa importantissima Che ho fatto ragazzi Che mi ha preso Davvero tanto tempo È stato questo E mo' Ve lo devo far vedere Eccolo Ho fatto un collegamento Che va direttamente su Perché è molto più comodo così Cioè c'è niente da fare ragazzi È molto molto più comodo Almeno siamo su Possiamo controllare Tutto quello che vogliamo Come vogliamo Ecco qua Stavo guardando Proprio che Adesso abbiamo 200 d'acqua Riusciamo ad andare Direttamente qua Dal generatore Benzina 32% Quindi la dobbiamo mettere Prima di partire E Boh Menomani era questo Non Non avevamo fatto altro Più che altro Perché abbiamo trovato Quelle cose lì Nelle scorse spedizioni Dunque Ho pensato un attimo A cosa fare E Probabilmente Rimarremo ancora Oggi A West Point Ma ci prepareremo Per la prossima La prossima spedizione Che sarà Verso Louisville Ok Non penso Che entreremo in città Perché non siamo ancora pronti Però inizieremo A pulire la strada Louisville ha anche Un livello di Popolazione più alto Rispetto a Boh Tutto il resto In realtà Cioè ci saranno Molti più zombie Quindi bisogna stare Particolarmente attenti Mi piacerebbe Trovare un'ascia Perché la mia È praticamente rotta E quella da legno È troppo lenta Però Vi faccio vedere Cosa ho trovato Noi possiamo fare Queste qua Le side window A partire da Finestra anteriore E l'unotto Utilizzando un bisturi E queste sono Abbastanza importanti Infatti penso Che ci metteremo Subito Andiamo a Smontare Una Una macchina Penso Non so nemmeno Cosa mi serve Come Come attrezzi Quindi nel dubbio Io mi porto Un po' di tutto Crick no Non mi serve E il resto Ce l'ho già Boh La prima macchina Che troviamo Andiamo Ah e per quanto riguarda La La barca Che mi avete detto Gold portala Dall'altra parte Del fiume Ho visto Che dall'altra parte Del fiume Non c'è niente Ci sono C'è un po' Di alberi Fino a dove Poi finisce Eventualmente La mappa Non c'è altro Però Se volete comunque Che ci andiamo Ci andiamo A me interessava Più che altro Vedere Se c'erano zombie Allora La prima macchina Che ricordo È di qua Si so che sono le 10 Ma non mi interessa Perché tanto sta arrivando L'estate Quindi le giornate Sono molto più lunghe E soprattutto Si vede ancora Abbastanza bene Un 8 genere standard Eh no Mi dà l'un 8 Va bene Proviamo un attimo A tornare indietro adesso E vediamo La metto già qua pronta In caso dovessimo ripartire Io avevo preso il bisturi Apposta Perché volevo provare Questa cosa qua Come l'impressione Che non funzioni Eh Però Eh appunto L'un 8 bisturi Ah no Eccolo qua Finestra laterale Sì Questo funziona Quindi l'un 8 Non va bene Però la finestra si E quindi adesso Abbiamo una finestra Laterale Per M998 Quindi devo prendere Due Altre tre finestre Anteriori Due di destra E ancora una di sinistra Giusto? Sì Una posteriore A sinistra Una posteriore A destra E una anteriore A destra Benissimo A questo punto mi viene da pensare Cosa serve per fare l'armatura Della porta? Mhm Cosa serve? E poi il parabrezza Però parabrezza Quale sarà? Parabrezza normale Va bene Sono fatto qualcosa Da mangiare di molto calorico Perché Greg Stava ancora perdendo Peso Eccolo qua Ehm Ho fatto praticamente Una ciotola di porridge Con dentro Latte condensato Miele Sciroppo d'acero E zucchero Era una bomba di zuccheri Però Giusto così Povero Greg Perfetto Ok Allora Andiamo a prendere Le ultime cose Che servono Le ultime Spero Di riuscire a prendere Tutte le cose Che servono Per l'anv Uuuu Potevo prendere Sin dall'inizio Queste Benissimo Benissimo Ma forse Forse basta Non è comunque Perché ho visto Che non c'è Un anteriore Posteriore Nella ricetta Quindi magari È proprio quello E basta Sì Io qua sto Assolutamente Finendo il carburante Quindi meglio Darsi una mossa Porca droia Ma Poi da dove arrivate? Sì Sì Non mi ci fa sparare Sono tentato Di fare un po' di rumore Almeno se c'è qualcun altro Lo staniamo Anche ha tre colpi però Per due zone Cioè sei colpi totali Ecco Già questo Ci ho guadagnato Guardate Ci ho guadagnato A posto Direi che sono stracarico Quindi è il momento Di dare un attimo Di riposo A Il Greg nazionale Benissimo Adesso ci sarebbe Soltanto fare le armature Pure Se riuscissimo A fare le armature Per le porte Cioè Ciao Condizioni generali Del veicolo 73 Ottimo Guardiamo un attimo Come si fa una Scusate Questo qua È quello dal Ah ok Volevo vedere Guardiamo un attimo Come si fa l'armatura Così in caso Andiamo Però un attimo Qua Devo buttare un po' di roba Allora Guardiamo un po' Com'è che si fa la Com'è che si chiamava Door armor Eccolo qua Rear door armor Armatura della porta posteriore Lamiera Lamiera Viti Ok E front door armor È uguale Possiamo farle Per lo più Bisogna vedere però Quante Lamiere abbiamo Perché mi so che Non ne abbiamo tante Fatemi vedere un po' Perché per ogni Armatura Mi servono 4 lamiere piccole E 4 grandi Le viti Le abbiamo 10 lamiere 10 lamiere piccole Quindi potremmo fare 1 e 1 Quindi magari Quelle frontali Poi ne abbiamo Altre 2 Vai Facciamole Faccio entrambi Quindi abbiamo 10 lamiere 10 lamiere piccole Mi servono Le viti La maschera da saldatore E la torcia al propano Esatto La maschera da saldatore Dovrei averla qua Perfetto Prendi una Torcia al propano Prendiamo quella Già iniziata Quindi Eccola qua Front door Ne fai 2 Grazie Ah non so se L'avete visto però Beh sicuramente C'è proprio Un cambiamento visivo All'anvi Quando si cambiano Determinati pezzi Tipo Ho cambiato il parabrezza Prima era distrutto Adesso invece È bello integro Sono cose carine Serve la chiave inglese Allora Installa 100% Questa qua è la mia Quella del guidatore Benissimo Adesso vado a prendere l'altra Quella del passeggero Così vediamo anche come sono Proprio visivamente Bello dai Bello Cioè visivamente È carino Adesso l'anvi È messo bene L'unica Mia preoccupazione Sono gli pneumatici Perché non ho Un ricambio E quello è un bel problema Vi direi che Prendo il resto Della giornata Per valutare un attimo Cosa fare Anche io non sappia Però Cosa fare effettivamente Oggi All'atto pratico Intanto chiave inglese Tutta sta roba qua Può andare via Probabilmente Questa sera Vado a prepararmi Qualcosa da mangiare Però Mi siedo un attimo Ecco qua Mi siedo un attimo Così posso guardare la mappa In tranquillità E organizzare Perché Vediamo un po' Potrei prendere La moto E andare Vabbè ma qua Avevamo già controllato Se non sbaglio Questo qua è il Gigamart Giusto No aspettate Questo qua È il sito di costruzione Questo qua è il Gigamart Perché qua c'è il veicolo Da dove abbiamo preso la benzina E va bene Potremmo controllarlo Per vedere Di nuovo Se c'è qualcosa di interessante Questi qua che sono marcati Li avevamo già esplorati E agli altri Vorrei dare una conferma E quindi mettere la X Il resto È tutto residenziale Quindi lo lasciamo stare Qua c'è la nostra barca E va bene La barca potrebbe essere Tranquillamente Un modo per andarsene Utilizzando il Il fiume Se non sbaglio Dovrebbe essere il fiume Ohio Però potrei sbagliarmi Perché non sono di quelle parti E Mi piacerebbe andare a controllare Questi due edifici Ma ho come l'impressione Di essere nel mezzo Di 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 un botto di gente E poi qua ci sono altri due moli Quindi potremmo andare a controllare quelli Fatto quello Si rientra E ci si prepara Per la spedizione Del Del prossimo episodio Perché sì Il prossimo episodio Andiamo in spedizione E cerchiamo di arrivare Alla barriera di Louisville E Tutto questo Cercando un attimo Di pulire E vediamo un po' Allora Mi carico qualcosa Che mi serve Nell'ambì E stacco il rimorchio Perché il rimorchio Non mi serve Generalmente di calorico Si va sul sicuro Con pasta Riso E per fortuna Non ci mancano Ho aperto delle cose Che pensavo onestamente Di poter combinare Invece no A quanto pare Non si possono combinare Ma va bene Devo fumare una sigaretta Questo è già Praticamente pronto Ma cazzo Ma ora L'ho riparato Ma mannaggia a me E vi direi Sulle 20 e 50 Fatemi ancora un attimo Vedere Di cosa ho bisogno Cioè cosa dobbiamo fare Domani Quindi Si esce Si va a destra Non ci sono mai andato Cos'è Stazione dei treni Possibile No Mi sa di no Perché qua Sono le rotaie Boh Vabbè Magari ci andiamo Il verde per cos'era Edifici Commerciali Boh Vabbè Comunque Destra Poi all'incrocio Si va a sinistra All'altro incrocio Andiamo a destra Probabilmente Lasceremo qua la macchina E controllerò a piedi Oppure andiamo Allora qua c'è la libreria Perché ho come l'impressione Che questo qua L'ho già luttato Questo pure E a sto punto Mi sa anche questo Forse ho lasciato Questo qua Perché è il Il comune Il municipio E magari Da qua in avanti Non ho luttato Non saprei Comunque Andremo lì E rifaremo Tutto un bel giro Quindi si dai Vai a dormire Greg Perfetto Non c'è nessuno C'è nebbia però Vedete Una cosa che ho perso Una buona abitudine Che ho perso È quella di Controllare Le previsioni meteo Si che tanto Dele male Però vabbè Dico Sono questi qua Gli errori Che magari poi Ti Ti fanno morire La poca preparazione Si che appunto Adesso viviamo Con questo range Di Tranquillità In cui Effettivamente Sono tranquillo Anche se ci dovesse essere Una tempesta Cazzo c'è un anvi Mi ficco là dentro E me ne torno indietro A me non piace Che stanno uscendo Tutti questi zombie Allora Questo qua È il gigamart Esatto Facciamo che parcheggio Un attimo qua E me lo ricontrollo Forse qua nel retro Non avevo controllato bene È appunto Cazzo quanta roba Amica ma ci vengo Con il match Vengo con l'anvi Così carico direttamente Vedete che ogni tanto A ritornare sui nostri passi Fa bene Soprattutto se i passi Li ho fatti io Mi ricordo metà Delle cose che ho fatto Fantastico Ce ne possiamo andare Adesso posso dire Di Averlo davvero luttato Ok Questo cos'è che sarebbe A parte che Questa zona qua È molto più tranquilla Non ci ho dimenticato Di spegnere Ah è un Ah venda sporca Un ristorante Porco giuda Non avevo praticamente Luttato Ok ma seriamente Ho fatto le cose un po' a caso Mi sembra Ok Ok Era da un po' che non Non mi sentivo così tanto In ansia Per Zomboid Qua avevamo già luttato Era giusto un piccolo condominio Food market anche L'avevamo già Luttato Sì allora penso che Qua l'abbiamo luttata tutta A parte il municipio Che però a sto punto Posso anche andare a controllare Ecco qua Sì esatto Questa qua proprio tutta L'avevamo fatta Quella era una libreria Questo qua Il clothing store Perfetto Questo non mi ricordo Però me lo dà come luttato Ah forse era la clinica Ricordo bene Era possibile che fosse una clinica No era un ristorante Ho detto una cagata West Point Town Hall Let's go Ah pure chiuso Listo Mo' è aperto Allora qua non c'è nient'altro Vediamo un po' cosa c'è qua Vediamo se c'è qualcosa da mangiare qua Ovviamente non c'è niente Vabbè Tanto per ora è un languore Basta Allora vediamo un po' cosa c'è di qua Sembra un'aula e basta Un bandiere Tipo un'aula a riunioni O una cosa del genere Comunicazione ufficiale Eh Ma non c'è adagi C'è scrivi giusto Oh ma che cazzo Comunicazione ufficiale Il taccuino è intriso di sangue Si reggono solo alcune parti President Ore dieci No non è ore dieci Perché sennò No bobo Non ne ho idea Imposto mil Equazione Risp Letale Seguito di un Personale armato Ordin Presenti di recarsi Si sarà Predisposto un nav Ma va in posto? Aspettate un attimo va Metto in pausa Non faccio mai mettere in pausa Però sto leggendo E non sto Non sto capendo che cos'è sta cosa qua Però è un taccuino Perché si va a compilare solo la prima di dieci pagine di un taccuino? Poi una comunicazione ufficiale non la fai su un taccuino Questa la tengo La tengo perché è qualcosa È qualcosa di diverso Qualcosa di diverso dal solito Allora scotch Sì grazie Faglio di carta Valigetta Andiamo a vedere cosa c'è dentro Nota per Debbie Eh la maddana che cos'è oggi? Nota per Debbie Allora metto in pausa perché Guardate C'è scritta la bibbia Mia cara Debbie Se stai cercando questa nota Significa che Se stai cercando questa nota Significa che siamo tutti in pericolo E che io non riuscirò a tornare indietro Ok Ho scritto questa nota Il mio primo giorno da sindaco Su consiglio del mio predecessore Non so cosa stia succedendo Ma se devi aspettare Che si calmino le acque C'è un posto per farlo A casa nostra in cantina C'è una scatola con scritto Documenti fiscali 1996 Dentro c'è una cartina Con delle posizioni segnate Quella rossa è la casa Le altre sono dei punti Ah C'è una casa Quanto pare Quella rossa è la casa Le altre sono dei punti di importanza Per scorte Quelle blu sono scorte di cibo In scatola extra Cibo in scatola extra Non cibo in scatola extra Quelle gialle sono medicinali E quelle verdi sono munizioni Se la situazione è stabile Non attingerà nulla C'è tutto nella casa sul lago Ah è tipo una safe house Grazie per non averlo menzionato Prima C'è tutto nella casa sul lago Sono certo che qualsiasi cosa sia Non durerà tanto Tranquilla Stai attenta Boh La nota è ancora qua Quindi Non penso che Qualcuno sia venuto A prenderla Aspetta un attimo Perché sta cosa qua Si sta infittendo Mi piace Non mi aspettavo Di trovare queste note qua Sinceramente Non me l'aspettavo Non me l'aspettavo per niente Però è bello Perché è un qualcosa in più Che racconta una storia Allora Fatemi marcare qua Vi dirò Sapete che Quasi quasi Vado a piedi avanti Perché non vorrei che Ecco appunto Qua qualche zombie c'è ancora Oh Scemo Qua sono Oh Ok Però chiaramente Non ho fatto tutto Da ste parti Enigma books Infatti Mi sembra di non averlo Fatto Il dentista Si Vediamo se c'è qualcosa Di utile qua In libreria Oh wow Sorry what Posso fare Non ci credo Posso fare le munizioni Oh mio dio Posso fare le munizioni Non mi di No eh Ma come si fanno Allora Aspettate un attimo Perché ho letto Make 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 Quindi forse Forse c'è la possibilità Liman 49esima edizione Manuale di Ricarica Leggi Quindi cosa ho imparato Adesso Voglio vederlo Voglio vederlo Il prima possibile Più di un appartamento Wow E che appartamenti Onestamente potrei Fermarmi per la notte Mi sembrano abbastanza Sicuri Tipo Ciao A posto Dobbiamo muoverci Per tornare giù Alla macchina Scaricare tutto E poi torno qua su Non so se è stata Una grande scelta Perché così Se c'erano degli zombie Adesso li ho attirati Sicuramente Vabbè sapete cosa però Metto la macchina qua davanti Così nessuno zombie Riesce a passare E io esco Dalla porta Di destra Eccolo qua Adesso posso farlo Vai Ok Ci siamo arrischiati un po' Metto la poltrona Davanti alla porta Perfetto Va bene Andiamo a dormire Mangio Un po' di cioccolata Andiamo a dormire La giornata è passata Tranquillamente Allora Ripeto Se ricordo bene Il dentista L'avevo già Esatto L'ho voluttato Perfetto Quindi questo si può Marcare Rimane l'edificio che fa Angolo Questo qua davanti L'ho voluttato Perché era quello Perché era quello di vestiti Ah questo qua forse era la clinica Sapete Allora quindi Questo è fatto E questi sono fatti Tranne la banca in realtà Ma nella banca Non penso che ci sia qualcosa Di interessante Buongiorno Scusate E buongiorno a carrile Smith & Wesson Ah c'è un edificio dietro Ok L'H Buono per fare gli esplosivi Non so se posso farli io però Gli esplosivi Ora che ci penso Perché serve forse L'ingegnere Per farli Come tratto Anzi come occupazione Facciamo il giro Dietro l'angolo Controlliamo A quanto pare Gli ultimi edifici Sì allora Non mi interessa Particolarmente Questa zona qua Sono altri uffici Quindi Colgo l'occasione Per marcarli E basta C'è da controllare Vabbè la banca Ma Penso che in banca Non ci sia nulla Controlliamo Questo edificio Oh 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 Tu sei interessante Ma si dai Ok Potrei aver sfanculato Un attimo Uno giusto Esatto Boh Abbiamo fatto un po' di pulizia Era questa la macchina Che mi interessava Non mi aspettavo Ci fossero così tanti zombie Che sono usciti Cazzo dal sottobosco Però Boh Mi hanno sparato qualche colpo Tanto a 9mm Come vedete Se ne trovano Parecchi Sono più Penso che sono più Quelli che abbiamo trovato Che quelli che abbiamo sparato Perché c'è il motore? Ah minchia Subito Cosa? Sorry what? Sta macchina In perfette condizioni Oh ma porco giude Ma Minchia Perfette condizioni Ma proprio perfette Perfette Ma stiamo scherzando Cioè il 100% Cazzo è un SUV È un Land Rover Ma tu vieni Assolutamente con me Questa si è reso Conto che io sono fuori Oh Qua sono i E finisci Un po' Che hai rotto le palle C'è la di così interessante Qua dietro Candeggina Guarda la volevi bere Rientro con più munizioni Di quelle che ho Quando sono partito Quando parto Guarda Un altro caricatore carico Cioè pieno De potenze Eh Guarda C'è tutti una Sig Sauer Tutti ce l'hanno Beh fatemi prendere il sacco Un po' va Pugna secondario Ci carichiamo dentro Un po' di roba A parte queste Che me le mangio subito C'è tutto Anche provviste mediche Cioè fantastico Sorry what Trovate una motosega Ragazzi Una cazzo di motosega Io Boh Boh Sono perplesso Smonta tutto Questa roba qua Questo qua È un Tipo un convenience store C'è tutto Ok Mettiamo sto sacco Dentro All'unv Volevo controllare un attimo Però vi sono zombie qua Quindi Diciamo che Metto in sicurezza la zona E poi controllo il sacco Ragazzi Sono un attimo Perplesso Perché sono tentato Di prendere Vabbè Riportare questa macchina Laggiù Andare con la moto A prendere l'altra macchina E poi tornare a piedi A prendere la moto Oppure fare spola Non so nemmeno se riesco A trainarla Sinceramente Posso provarci Perché se dovessi riuscire A trainarla Ciao Abbiamo vinto Sì Vado molto 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 lentamente Ma riesco a trainarla Vado così lentamente Che ho paura di fermarmi Se giro Però No non mi piace Troppo rischioso Stavo già vedendo Quello zombie laggiù Che mi ha recuperato Senza problemi Ti vengo a prendere Ti vengo a prendere dopo Vai tranquilla Ovviamente non scaricherò Niente per adesso Ma facciamo Proprio missione Di recupero Al volo Anche perché Guardate Posso lasciare la moto Qua Andare a piedi Filla giù Più o meno Un po' lunghina Però Oppure potrei andare A piedi e basta Abbiamo presa Di roba ragazzi Ma ne abbiamo presa Parecchia anche E voglio capire Cos'è Vabbè Adesso prima di tutto Andiamo a prendere Quella macchina laggiù Che è fantastica Nuova No 100% Ragazzi 100% Mancavano solo le chiavi C'era pure il pieno Ve ne rendete conto Sono le 18 Sì secondo me Ce la facciamo Siamo già a metà strada Praticamente Io mi faccio tutti i problemi Devo andare a prendere la moto Poi la devo lasciare A metà strada Ma fatti una camminata Greg Vai che ci arrivi Ce ne avevo quanti Dietro uno E vabbè Sarà mica troppi Vi giuro Non stava caricando la macchina Ho detto Che cazzo sta succedendo Dov'è la mia macchina Cosa ha detto signora Non ho capito Io vi giuro Ancora non me ne capacito Di sta cosa Oh fantastico Fantastico Ce ne stiamo tornando indietro Con un SUV nuovo Sì davvero peccato Per l'autista della domenica Arrivati Sani e salvi Adesso abbiamo un bel parco veicoli Abbiamo uno Due Tre mezzi Di cui Uno militare Uno simil militare L'altro Per niente militare E Ho un fottile di roba Da sistemare Per lo più Guardate qua Abbiamo preso Un pacco di roba Ma un pacco Soprattutto cibo Soprattutto cibo Ma non solo Abbiamo preso anche Delle cose Utili Però sì Effettivamente Principalmente cibo Allora Andiamo a fare un attimo Il punto della situazione Va Cosa abbiamo fatto Praticamente Oggi Abbiamo pulito Il resto Della Della città di West Point Ok Però qua ci metto Aggiungi nota Blu Freezer Perché È importante Quello lì In caso mi dovesse mai servire So che lì ce n'è uno Dovremmo pulire ancora Vabbè A parte che Questa vi dicevo La banca E quindi Non mi interessa Questa dovrebbe essere La chiesa Ci starebbe a fare Questi Tre edifici Quattro Quelli che sono E questa parte qua in alto Che ahimè Non siamo riusciti a fare Quindi vi direi che Ritardiamo ancora un po' La partenza Per West Point Per Louisville Il prossimo episodio Probabilmente sarà spezzato a metà In cui Facciamo l'ultimo controllo Di questi posti E poi iniziamo L'approntamento Per la partenza Oppure partiamo Proprio alla fine Del Del prossimo episodio Così Per quello dopo Siamo lanciati Verso Verso Louisville Interessante Quello che posso dire Di questo episodio È interessante Abbiamo trovato tante cose Abbiamo fatto davvero Tantissime scorte E vi ripeto Sono tornato Con più munizioni Di quelle Con cui sono partito Che È assurdo Perché davvero C'è una Una situazione Fantastica Dal mio punto di vista Di sopravvissuto Fantastica Perché davvero Il 9mm Non dico che le posso sprecare Ma quasi E poi Interessante Per i risvolti Di Approfondimenti Tra comunicazione ufficiale E la nota Per Debbie Che sono interessanti Aggiungono quel Tocco in più Di profondità Comunque io direi Che per questo episodio Termino qua Voi Nei commenti Fatemi sapere Cosa ne pensate E se secondo voi Il piano di attacco Per le prossime missioni Per le prossime sessioni Scusate È accettabile Poi se avete dei consigli Per qualsiasi altra cosa Fatemi sapere Qua sotto nei commenti Sono anche contento Dell'unvi Perché siamo riusciti A ripararlo davvero Mi sento molto più Al sicuro così Che se mi fermo Non è che uno zombie Entra e mi mangia il braccio Perché c'è effettivamente La finestra Però come vi dicevo Io termino qua Vi ringrazio ancora tutti Tantissimo per avermi seguito Io sono Gold E noi ci vediamo Con i prossimi video Bye bye